Prova, provaci Sono a posti con gli improvvini GF No, sono tanti quelli di merda io ci stai, capisco in qua Cioè? Praticamente un mio amico No, questo mio amico che tipo prova a entrare da un po' tanto, da una vita siccome non si usciva sta continuando, no? è venuto da Borogno e faceva questo provino a mia mamma ritrovata a pete ma dai, accompagni, accompagni e poi siamo al mare dai, fanno che fare il provino non so neanche che cavolo era no, solitamente no, no, no arriva a sto ragazzo dai, vieni, vieni, compililo, vieni ma vado mi fa mettere in costume mi fa fare tipo la faccia la faccia, la faccia, la faccia potete e poi comenta con il questionario tipo roto calco, no? non manca male il tuo armadio io cattavo così dai dai non manca male il tuo armadio no, non manca male il tuo armadio non manca male il tuo armadio io non sapevo neanche come si chiamava la cosa che stavo facendo no? dai, per assurdo cosa sei disposta a fare per andare a model non so non so non so non so cosa? cosa? ma comunque sei filmata non so non so non so